bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo video sul legge 57 e oggi siamo su non siamo su craft duty no, siamo su roblox ragazzi, roblox è un gioco che ho trovato così in giro per internet stranamente l'ho trovato a random e mi è piaciuto molto dalle aspettative e infatti è un gioco bellissimo, è un multiplatform in cui si può scegliere i miei giochi e quest'oggi siamo andati a parlare su un minigioco simile a craft duty se arriviamo a 20 mi piace io ne farò uno simile a questo perché si possono anche dare i miei verdi e ne farò io su uno simile a questo però si possono usare anche le auto quindi una specie di battlefield diciamo quindi arriviamo a 20 mi piace nel prossimo episodio e anche quindi nel prossimo episodio allora noi siamo nella squadra blu e dobbiamo conquistare i territori arancioni che sono dei nemici e eccone uno come vedete sono i molti nemici i nemici dovrebbero essere per noi terroristi mentre i blu dovrebbero essere l'fpi mi sembro non lo so bene che sorriso e sorriso somagliante a talve siamo è bello che non è neanche un cecchino io l'ho potenziata al massimo questa uno sta facendo il cecchinaggio da la del cecchinaggio attenzione cecchinaggio provetto no poco 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 bigliet master su voler andare pesante ci vado pesante anch'io non è questa ma è questa se c'è voglia di conquistare territorio ok ragazzi ed eccoci in game attenzione ora siamo in una metropoli in quale cambierò l'arma perchè quest'arma sinceramente shotta però fa un po schifo è una shotgun però fa schifo mi accuccio ho sbagliato parte oh ma che cazzo come ha fatto per chi non muore qualcuno mi uccida sono in giro aiuto uccidimi si bravo muore oh era ora eh devo sbagliare un po' poi d'accordo ragazzi io da qui dentro ho intrappolato questo cubo nero e e la cosa è tutto quindi iscrivetevi lasciate un mi piace come vi ho detto all'inizio dell'episodio e niente good luck ciao